Nuovo restyling per il portale del programma operativo Valdagri Camastrasauro che è stato presentato all'atere della conferenza stampa del presidente dell'Aggiunta regionale Vito De Filippo. Con una veste rinnovata il sito presenta al visitatore i maggiori risultati conseguiti e introduce una sezione sintetica degli stessi, risultati in pillole, per chi volesse avere una panoramica dello stato dell'arte. Per chi invece volesse conoscere i dettagli si può cliccare sull'area Report e Documenti dove in versione sfogliabile è possibile visionare e all'occorrenza salvare i risultati delle attività del programma operativo. L'home page si arricchisce di 5 notizie in primo piano, inerenti le ultime novità e la struttura si apre al confronto con i professionisti e con i cittadini che vorranno interagire con essa. Un'apposita sezione, scrive al PO infatti, garantirà un ponte tra l'amministrazione pubblica e il territorio. Primo argomento di confronto, il piano strutturale intercomunale. Ad aprire la discussione un'intervista al professor Paride Giustino Caputi, docente di urbanistica alla Facoltà di Urbanistica di Napoli e i commenti di alcuni amministratori locali.